Il sindacato italiano balneare Abruzzo guidato dal presidente Riccardo Padovano darà il proprio contributo attraverso gli stabilimenti aderenti per ringraziare ed esprimere profonda riconoscenza al personale sanitario che durante l'emergenza epidemiologica si è sacrificato e continua a farlo lottando in prima linea nella battaglia contro il covid-19. L'iniziativa presentata a Pescara nel corso di una conferenza stampa è denominata codice blu dalla corsia al mare. Il progetto patrocinato dall'assessorato alla sanità prevede un pacchetto di servizi offerti gratuitamente agli operatori sanitari presso gli stabilimenti abruzzesi che hanno aderito all'iniziativa.